Sono stati riaperti i termini al 31 dicembre 2018 per le istanze giacenti di condono edilizio. L'amministrazione comunale di Ariano Irpino ha appositamente predisposto un modello per consentire una più rapida definizione e una conseguente emissione della sanatoria edilizia. Spiega come fare il delegato all'urbanistica il consigliere comunale Antonio Santosuosso. Tutti quei cittadini che avevano fatto istanza di condono legge 4785 e del 94 poi col primo governo Berlusconi queste domande sono ancora giacenti presso i comuni, non sono state poi di fatto emesse i permessi a costruire in sanatoria. Questo comporta che ci sono delle pratiche non evase e ferme. Anche i cittadini hanno l'interesse affinché venga messa a posto questa situazione perché anche gli atti di trasferimento che si sono fatti o che si devono fare ovviamente possono essere un attimino messi in discussione perché appunto sono oggetto di trasferimenti fabbricati o porzioni fabbricate non sanati. Quindi i cittadini ci sono ancora presso il comune di Ariano 280 pratiche di questi condoni, 260 per quanto riguarda la legge 4785 e una ventina di pratiche per quanto riguarda la legge del 94. Quindi il nostro auspicio è quello che abbiamo fatto anche dei manifesti in cui invitiamo i cittadini a mettersi a posto. Abbiamo fatto una riunione con tutti i tecnici, invitando tutti i tecnici di Ariano in modo da sensibilizzare i cittadini, i propri clienti, eccetera, per fare queste certificazioni, mettersi a posto ed arrivare poi al rilascio del permesso a costruire in sanatoria. Il comune abbiamo anche preparato un'autodichiarazione semplificativa per i tecnici e per i cittadini scaricabile dal nostro sito istituzionale del comune, quindi per alleggerire ancora di più il lavoro sia ai tecnici che ai cittadini. Stiamo facendo di tutto affinché queste pratiche, mettiamo la parola fine a queste pratiche che veramente sono da anni che già sono in questi nostri archivi e non è giusto che sia così. Grazie a tutti.